Che è il Sal Amen? Finire una preghiera, chiuderla, vittima al sale. Sal Amen. Salve a tutte e tutti, qui è il vostro Sant'Enchan. Come vedete sono uscito a fare la spesa. Beh, al di presto farò nuovi video. Mi raccomando, state bene, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, sono disoccupato, votate mi piace e fate clic nei banner pubblicitari. Ci vediamo, eh? Non trovo nulla, però devo comprare. Come voi, anche io ho delle necessità. E mi raccomando, visto che sono disoccupato, fate clic nei banner pubblicitari e mettete come favorito il mio video nei vostri canali. E diffondetelo, parenti, amici, familiari, anche nemici. Magari non saranno nemici miei. Ciao. Grazie. 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 Grazie.